Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Le ricerche dei due ragazzi non si fermano. Diversi mezzi dei vigili del fuoco, compresi i sommozzatori, sono partiti questa mattina e continuano a scandagliare la zona, compresa quella lungo il fiume Brenta. Poco dopo le 11 di stamattina, 15 novembre, sono stati convocati tutti in caserma. Il padre, la sorella e il fratello di Giulia Cecchettin. La studentessa di 22 anni scomparsa da sabato sera assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Sono ore d'ansia a Vigonovo. Le ricerche dei due ragazzi non si fermano. Diversi mezzi dei vigili del fuoco, compresi i sommozzatori, sono partiti questa mattina dalla caserma del paese e continuano a scandagliare la zona, compresa quella lungo. Filippo ostile alla laurea di Giulia. La zia rompe il silenzio e rivela come si comportava. Queste le sue parole. Filippo non era contento che Giulia si laureasse domani perché temeva che si potesse allontanare da lui. A raccontarlo ai giornalisti è Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia Cecchettin. La 22enne di Vigonovo scomparsa ormai da quattro giorni insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Grazie. Grazie a tutti.